Il bilancio di fine anno della Guardia di Finanza di Rimini Il bilancio che vede ancora numeri significativi per quanto riguarda il contrasto all'evasione fiscale Sono stati 36 gli evasori totali rintracciati e sanzionati dal comando provinciale della Guardia di Finanza di Rimini Oltre 1.200 le verifiche sull'emissione degli scontrini fiscali 300 le irregolarità contestate, bar e ristoranti tra le categorie maggiormente sanzionate Per quanto riguarda il lavoro sommerso, 160 i lavoratori nero rintracciati e 40 i datori di lavoro multati Sono stati confiscati beni per 17 milioni nell'ambito delle operazioni che vedono sequestri preventivi E poi alla fine la confisca Si ricordano anche le principali operazioni Operazioni che hanno visto anche gli sviluppi della Free Credit Iniziata nel 2022 Free Credit che è stata condotta personalmente da Roberto Russo Il comandante del nucleo di polizia economico-finanziaria di Rimini Deceduto il 25 novembre scorso a causa di un malore in mare mentre praticava kitesurf E per le fiamme gialle riminesi appunto la presentazione del bilancio di fine anno È stata anche l'occasione per ricordare il loro compianto collega Una vicenda che risale all'estate del 2020 e che attende ancora di avere chiarezza Morì in mare risucchiato da un vortice all'altezza del bagno 27 Un fascicolo che è stato aperto ma che ancora non vede indagati Vediamo il servizio Com'è possibile annegare in mare con l'acqua alla vita? Se lo chiedono i familiari di Leandro Moretti Il 69enne riminese morto il 24 giugno del 2020 Nel tratto di mare antistante al bagno 27 di Rimini Vicino al cantiere del PSBO La procura di Rimini all'epoca apre un fascicolo contro i gnoti Che ipotizzava il reato di omicidio colposo Ma al momento non risultano persone iscritte nel registro degli indagati Ci sono diverse anomalie però sulla morte di Moretti Che l'avvocato Maria Rivieccio che rappresenta la famiglia Ha messo nero su bianco in una corposa querela Il 69enne la mattina del 24 giugno Passeggiava insieme alla moglie Lui in mare con l'acqua fino alla vita Lei sulla battigia All'improvviso l'uomo da un metro d'acqua si è trovato a sprofondare Come se un vortice lo stesse risucchiando Morirà negato come stabilì il medico legale della procura Nonostante i disperati tentativi dei marinai di salvataggio Sempre in quella porzione d'acqua i marinai di salvataggio Come risulta da un report inviato alla Capitaneria Avevano tratti in salvo il 17 giugno del 2019 Ben 14 bagnanti di età compresa tra i 9 e i 50 anni In sole 7 ore Un'ordinanza comunale poi emanata dopo la morte di Moretti E che l'avvocato Riviecio allegato alla querela Aveva disposto il divieto di bagnazione In corrispondenza dei bagni 27, 28A e 28B Considerate le variazioni irregolari del fondale A partire da 90 metri dalla riva verso l'esterno Anche alla Capitaneria di Porto Aveva emesso a inizio 2020 Un'ordinanza che vietava la bagnazione in quel tratto E imponeva la presenza di adeguata segnaletica Che però quella mattina non c'era L'ipotesi dei familiari è che la morte di Moretti Potesse essere in qualche modo evitata Se fossero state adottate tutte le cautele del caso Resta poi un ulteriore interrogativo A cui la procura ancora non ha dato una risposta È possibile che il vortice che si sarebbe creato in quel tratto di mare Fosse una conseguenza indiretta Dei lavori connessi alla pose delle condotte sottomarine A distanza di tre anni e mezzo dalla tragedia I familiari restano in attesa di risposte A metà gennaio partiranno i lavori di RFI Per migliorare l'accessibilità pedonale ciclabile Del sottopasso al Grattacielo in Viale Principe Amedeo Dal 15 gennaio è prevista la chiusura al traffico Di un tratto di via Monfalcone Da via Rodi a via Calalzo Dopo il SIGEP dal 29 gennaio Sarà poi inibito l'utilizzo del marciapiede Di parte della corsia stradale di Viale Rodi Con la partenza dei lavori Il sottopasso sarà chiuso Per consentire le lavorazioni contemporanee Su entrambi i fronti È prevista poi una temporanea riapertura in estate Con modifiche alle attività Per consentire il passaggio delle persone Il termine dei lavori è previsto Per la fine del 2024 E proseguono intanto anche i lavori Per il prolungamento del sottopasso centrale Della stazione e del nuovo accesso lato mare E in tema di lavori Si sono conclusi dopo un tortuoso iter Quelli della Gabbianella La nuova scuola di infanzia Per la frazione canonica di Sant'Arcangelo Un progetto che aveva dovuto fare i conti Con il cambio di impresa realizzatrice Appunto per le difficoltà della impresa Che aveva vinto il bando Ma c'è stata due giorni fa La cerimonia ufficiale di inaugurazione Per questa scuola che era comunque già attiva Il nome è stato scelto insieme a famiglie e bambini Si chiama la Gabbianella Il tema dell'area di Via Bassi Quella dell'ex questura di Rimini Dell'edificio dell'area mai diventati Sede della ex questura E se ne è parlato anche la nostra trasmissione Fuori dall'aula Dove è intervenuto Marco D'Adalto Del progetto Rimini Life Per ribadire la bontà del progetto Anche rilanciare l'ultima proposta Fatta all'amministrazione comunale Quella appunto Di rinunciare Cedere a titolo gratuito Le aree non interessate dal commerciale In cambio della possibilità Di realizzare questo supermercato 1500 metri quadri Con aree poi a servizio Che raggiungono un totale di 4500 Una proposta che finora non è stata accettata Dall'amministrazione comunale Che al momento non ha dato risposte Ad Asia Rimini Un sviluppo immobiliare Ascoltiamo un passaggio dell'intervista Con Marco D'Adalto Il problema non è tanto nel complesso Il suo progetto Quanto sempre e solo Ed esclusivamente il supermercato Quindi abbiamo fatto una nuova proposta Credo irrinunciabile Noi sostanzialmente Dei 23.700 metri Che abbiamo acquisito e acquistato Abbiamo deciso di rinunciare A ben 17.600 metri quadrati Di edifici esistenti Quindi riduciamo drasticamente La cementificazione Non utilizziamo nuovo suolo Perché realizziamo su quel suolo Già oggi impermeabile Soltanto i 6.000 metri del supermercato Con le sue pertinenze Mentre nella parte attigua Lasciamo oltre due ettari All'amministrazione Oltre due ettari Dove possono nascere Le residenze sociali e pubbliche Non di fronte allo stadio Ma più verso Ugo Bassi Come abbiamo anche proposto noi Nel progetto Rimini Life Possono nascere più parchi Più verde Più parcheggi In aiuto allo stadio L'amministrazione è veramente Quasi divertente Che dica È un hub logistico Quando i loro uffici L'hanno riconosciuto perfettamente Come un supermercato La questione dell'hub logistico L'hanno chiusa loro stessi Ci hanno autorizzato loro Quindi dire dopo Che è un hub logistico È una diffamazione Alla domanda Quello serve un hub logistico La risposta è no Diciamo così Una flebile speranza Ce l'abbiamo Perché immaginiamo Che l'amministrazione Stia riflettendo Per trovare una data in agenda Per poterci ricevere Ma oggettivamente Dopo una proposta Che abbiamo fatto Non ricevere neanche Una chiamata Per dire Beh ci regalereste tutto Beh facciamo una cosa Incontriamoci E cominciamo a parlarne Il silenzio assoluto Continuiamo a vedere Degli articoli di giornale Ogni tanto Di qualche sentinella Che continua a arrampicarsi Sugli specchi Che dice Il solito ritornello L'hub logistico E le consegne Un disco rotto Noi siamo contro L'analizzazione Di palazzine sociali Di fronte a una curva Di uno stadio E dietro Praticamente Un edificio Malsano Insicuro Perché lì Non c'è inclusività Lì non c'è sicurezza Lì non c'è rigenerazione Se dovessero riuscirci Gli amministratori Tutti Metteranno la firma Su quello scempio Metteranno la firma Su quella vergogna Che hanno lasciato in piedi Io sono proprio curioso Di vedere Come possa accadere Una roba del genere E sono anche curioso Di sentire il ministero La regione Perché ce lo devono giustificare Ci devono dire Come si può spendere Del denaro pubblico In quei contesti In quelle condizioni Perché se è tutto lecito Beh allora alzo le mani Un altro comparto Da riqualificare In questo caso Diciamo Con un clima Un po' più sereno È quello Dell'ex mercato Ortofrutticolo Alle celle di Rimini Un progetto Che vede Al momento Un importante Investimento In termini Di edilizia sociale In particolare 80 alloggi Quelli previsti In questo programma Che vede appunto All'inizio Del suo iter Con l'affidamento Della progettazione Ad Acer Oltre appunto Agli alloggi Ci sarà anche Una riqualificazione Complessiva Dell'area Con un asilo nido Spazi per attività pubbliche Collettive Una piazza Parcheggi pubblici E collegamenti Ciclopedonali Questo appunto Succederà Nell'area Nell'area delle celle Quella dell'ex mercato Ortofrutticolo Quella per intenderci Dove si svolge Anche tutti gli anni Il mercatino Nel centro di raccolta Del campo lavoro Missionario A Rimini Parliamo di sanità Torniamo a parlare Di sanità E di questa Riorganizzazione Che vede In particolare Il nuovo format Dei CAU Per quanto riguarda La prima accoglienza Delle emergenze In diversi Presidi ospedalieri Del nostro territorio Una riforma Che sta facendo discutere Gli ex Medici di guardia medica 160 Quelli che avevano Sottoscritto Questo documento Avevano minacciato Dimissioni di massa La piccata Anche replica Dell'Ausl Che ha parlato Di affermazioni Pretestose E allora Questo servizio Fa un po' Il punto della situazione I medici Della continuità Assistenziale Ex guardia medica Sono sul piede Di guerra Contra la riforma Dell'emergenza Urgenza Varata dalla regione In una lettera 160 professionisti Delle tre province Romagnole Minacciano addirittura Le dimissioni Di massa Nel mirino La soppressione Delle centrali Provinciali Telefoniche Di risposta medica Con l'introduzione Di una centrale unica Con operatori laico Quindi non sanitario Che si limiterà A trasferire la telefonata Al medico locale Delle visite domiciliari Costretto Si legge nella lettera A svolgere una doppia funzione Quella della consulenza Telefonica Non più erogata Dalla centrale E quella Della visita domiciliare Tutte modifiche Che secondo le ex Guardie mediche Hanno lo scopo Di liberare Rissorse umane Ed economiche Da impiegare Nei CAU Centri di assistenza E urgenza Che per gran parte Denunciano Saranno semplici Riconversioni Dei punti Di primo intervento Già esistenti Inoltre Prosegue la lettera I medici Che ci lavoreranno Saranno proprio Quelli dell'attuale Guardia medica Che non sono in possesso Di una formazione Adeguata Al servizio Che l'azienda Vorrebbe erogare I 160 firmatari Chiedono quindi Un passo indietro Altrimenti Arriveranno Le dimissioni Affermazioni Pretestuose E sorprendenti È invece La netta risposta Dell'Ausla Romagna Che ribatte Punto per punto L'operatore tecnico La centrale unica Di continuità assistenziale Spiega Dovrà solo indirizzare Il cittadino Al servizio idoneo Senza alcuna intervista Di natura sanitaria Il numero Dei medici In servizio Non sarà ridotto Ma solo Diversamente Distribuito Sul contemporaneo Impegno del medico Che effettua una visita E deve rispondere Al telefono L'azienda precisa Che il consulto Potrà essere effettuato Dagli altri Colleghi liberi In servizio Infine Sui CAU L'Ausla ricorda Che da oltre un paio D'anni Sono in corso Sperimentazioni Con esito positivo Nei punti Di primo intervento Di Cervia E Cattolica Inoltre I medici Che vi prestano servizio Devono aver seguito Uno specifico Percorso di formazione Di 60 ore L'Ausla Si dice comunque Pronta Ad ogni correzione Se necessaria Ma il clima Resta teso E il nuovo anno Potrebbe portare Proteste E mobilitazioni Parliamo di politica C'è un nome storico Marchio storico Che cerca il rilancio Nel territorio riminese Quello È il primo giorno Dell'inverno 2023 Inverno che debutta Con una situazione Quanto mai curiosa Perché Se andiamo a vedere Le previsioni Per oggi Cielo sereno Poco nuvoloso Una temperatura massima Sulla costa Di 18 gradi La media stagionale In questo periodo Lo dice Il sito Dell'ARPA Emilia Romagna Sarebbe Di 8 gradi Quindi siamo Oltre il doppio Con una consistente Ventilazione Di garbino Per quanto riguarda Poi I prossimi giorni Una situazione Diciamo Piuttosto simile Domani Cielo sereno O poco nuvoloso Temperatura massima Di 16 gradi La tendenza Poi Per la vigilia Di Natale Quasi in fotocopia Un paio di gradi Meno 14 gradi La massima Ma siamo sempre Su temperature Anomale Anche se ormai Parlare di anomalie Nel meteo E' sempre più difficile Temperature minime Che se Guardiamo le medie Dovrebbero essere Di poco Superiori Agli 0 gradi Invece saranno Di 7 gradi Sulla costa E 6 sui rilievi Questo per quanto riguarda Le minime Sulla situazione Per Natale Poi Santo Stefano Bisognerà avere Notizie un po' più certe Nei prossimi giorni Il Vescovo di Rimini Nicolò Anselmi Ha inaugurato ieri Una Quella che Dovrebbe essere Una tradizione Pre Natalizia Quella dell'incontro Anche con i giornalisti Locali Si è svolto Questo incontro Alla parrocchia Di San Raffaele Rimini Parrocchia che è guidata Da Don Eugenio Savino Che è anche il nuovo Responsabile Dell'ufficio Di comunicazioni sociali Della diocesi Il Vescovo Che si è confrontato Appunto con i giornalisti E poi lo scambio degli auguri E anche un invito Per quanto riguarda La nostra professione Vediamo Discernimento e realtà Sono state le due parole chiave Che hanno guidato L'incontro Tra il Vescovo di Rimini Nicolò Anselmi E la stampa locale Insieme in cerchio Per ascoltare Ed essere ascoltati Per il Vescovo Un'occasione per dire La sua stima Nei confronti di coloro Che ogni giorno Raccontano un territorio Cercando di aiutare lettori Ascoltatori E pubblico televisivo A discernere temi complessi Con tante voci Che si confrontano Ma che spesso Si scontrano anche Anch'io quotidianamente Leggo Guardo Ascolto Ed è tutto materiale Che poi dopo Utilizzo Per quello che è Il mio discernimento Che oggi Più che mai Abbiamo bisogno Perché Certo ci arrivano notizie Da una miriade di fonti E quindi Certo Il giornalista Che è un descrittore Sincero Di ciò che vede Aiuta tutti In questo discernimento Che è una dimensione Importantissima Perché Se no La velocità ci prende Non ci aiuta a pensare Allora andiamo avanti In distinto E come si dice oggi Di pancia Sul valore della realtà Il Vescovo Ha preso spunto Dall'Evangelii Gaudium Di Papa Francesco E in particolare Da uno dei principi Costruttori Della pace sociale Questa affermazione Della realtà Che è più importante Dell'idea Che è visto così Ci spaventa un po' Perché noi siamo abituati A dire Prima di tutto Ragazzi Bisogna avere delle idee in testa E poi dopo costruire il mondo In base a quelle idee No Questo principio deduttivo Tipico anche un po' Della cultura greca Insomma Di cui noi siamo Imbevuti Il Papa ci invita Invece a cercare Nella realtà La presenza del bene Della verità È un approccio teologico Anche no È la convinzione Che il Signore Gesù È presente In ogni aspetto Della realtà E quindi Bisogna andare a cercare Lì E non Niente idee Che poi non si sa bene A dove vengono Siamo al calcio Questa sera Qualifica L'angella L'obiettivo è L'obiettivo è ovviamente Quello di riprendere La marcia Dopo lo stop Il primo dopo Una lunga serie Di risultati positivi Lo stop Nell'ultimo impegno Con la Virtus Centella Ascoltiamo la vigilia Del tecnico Biancorosso Emanuele Troise Partita diversa Completamente diversa Rispetto a quella Di Coppa Italia Chiaramente Un impegno di campionato Molto Molto importante Per la posta in palio Dove Insomma Chiude Il girone di andata Chiude Il 2023 E dove ci siamo Preparati al meglio Considerando anche Il tempo a disposizione Che abbiamo avuto Rispetto al Tour de Force Terminato Lì A Chiavari E ci aspetta una partita In termini Di campo Impegnativa Se consideriamo L'avversario Se consideriamo L'esperienza Di un allenatore Che Ha superato Le mille panchine Dove È riuscito nel tempo Sempre Poi A portare Grandi risultati Ovunque è andato E dove ha lasciato Sempre Poi il segno In termini di squadre Pratiche Aggressive Verticali Che ti concedono Poco All'interno della Rosa Comunque anche Calciatori in grado Di sviluppare Una buona qualità Di gioco Vedi Spina Vedi Di Massimo Vedi Udo Che è un buon riferimento Terminale Di punta centrale Centrocampo formato Da mercati Brava ad inserirsi Se manterrà La struttura Del 3-5-2 Ha sugli esterni Tra Corsinelli E Di Marco Comunque anche Nelle ampiezze Giocatori in grado Di metterti In difficoltà Su quelle che possono essere Gli attacchi laterali E quindi ripeto Nell'interpretazione Della gara Al di là di come Verranno a giocare Perché poi Hanno avuto anche Questa tuttilità Vedi la partita Contro il Sestri Dove hanno cambiato E hanno giocato A 4 Di interpretare In diversi sistemi Di gioco La natura Non cambia Non si snaturano In termini Ripeto Di quella che può essere Una squadra Molto pratica Che ti concede poco Aggressiva E che ti Ti mette in difficoltà Dobbiamo guardarci Dietro E in avanti Perché oggi Probabilmente Abbiamo più chiarezza Di chi siamo Ma forse Non sappiamo ancora Chi vogliamo essere Quindi Domani è una grande Occasione Per capire Questa squadra Dove In che direzione Vuole andare Quindi Rimini in campo Questa sera Alle 20.45 Domani sera Alle 20.30 In campo RBR Nell'atteso Derby Con Forlì E ci sarà Anche Le riviera Banca Day Con Le infettive Speciali Non saranno Validi Gli abbonamenti I biglietti Andranno Acquistati Singolarmente E per ogni Biglietto In omaggio Anche Una sciarpa Di RBR Su RBR Appunto Rinascita Basket Rimini Punto It Tutte le informazioni Per quanto riguarda L'acquisto Dei tagliandi Domani Alle 13.35 Su Icaro TV L'ultima puntata Del 2023 Per il programma Un ponte Con la storia Il programma Che ripercorre Appunto La storia Recente Riminese Si parlerà Della nascita Del polo Universitario Di Rimini Dell'Alma Mater Di Bologna Ospite Leonardo Cagnoli Che è stato Dal 2014 Alla 2018 Il presidente Di Unirimini Vediamo Un'anticipazione Nel 1992 Dopo che anche A Forlì Cesena E Ravenna Sono sorti Poli Universitari A Rimini Si costituisce Uniturim S.P.A. Per dare vita Alla sede riminese Dell'Alma Mater Col supporto Dei protagonisti Istituzionali Imprenditoriali Ed economici Del territorio Nel 1994 Vengono attivati I primi corsi Di laurea In economia E statistica Con 77 studenti Iscritti E viene inaugurato Il palazzo Dell'università In via Anghera Oggi L'università Di Rimini Offre 20 corsi Di laurea Afferenti ad 8 facoltà Oltre a master Dottorati E altre opportunità Ed è affiancata Da un tecnopolo Gli studenti Sono più di 5.000 Queste sedi romagnola Ecco Come si riuscì A far quadrare Il cerchio Il discorso È quello Del campanilismo Campanilismo C'è in tutte le cose C'è nel calcio Nel basket Ma c'è anche Su cose molto Importanti Quali Gli ospedali Dov'è l'ospedale Più importante In quale delle città Qual è il polo E anche Quindi Nell'università Allora Si riteneva Diciamo Che Rimini Fosse stato Già premiato Nelle sue richieste Con L'istituzione Il potenziamento Dell'aeroporto Della fiera E che L'università A quei tempi Dovesse essere Appunto data Invece A Forlì Cesena E Ravenna Ecco Questa cosa però Non poteva Non poteva reggere Secondo Le nostre Idee E anche Devo dire Il rettore Dell'epoca Che era Fabio Roverse Monaco Si rese conto Dell'importanza Che nel momento In cui Per la famosa Legge Già citata Si doveva Arrivare A un decentramento Dell'università Di Bologna Per evitare L'eccessivo Congestionamento Dell'università In quella sede Roverse Monaco Capì Capì Che era Importante Che anche Rimini Si affiancasse Alle altre Tre Città Della Romagna Dove Era già E' stato Istituito Un primo Abbozzo Di campus Appuntamento Con Un ponte Con la storia Per domani Alle 13.35 Siamo in conclusione L'informazione Torna Alle 9.05 Su Radio Icaro Icaro TV Con tempo reale Vi ricordo Anche il nostro Sito di informazione Newsrimini.it E la nostra Piattaforma Video Icaro Play Grazie a tutti voi Per averci seguito Dalla redazione L'augurio Di una buona giornata Grazie a tutti